È il quarto appuntamento delle lezioni di educazione civica tenute da personaggi importanti della nostra terra, della terra di Arezzo, rivolte ai ragazzi delle scuole superiori, naturalmente. Questo grazie a un'iniziativa che è stata immaginata dall'Associazione Trattevere Arno di Arezzo e soprattutto il provveditorato agli studi, il professor Roberto Curtolo che è il provveditore agli studi, che ha dato il via libera a questa iniziativa, la professoressa Maria Pianannini che è qui accanto a me, che ha organizzato tutte queste lezioni conferenze e il professor Gatteschi. Oltre a Tiziana Nocentini del provveditorato. Bene, è un sogno che si sta realizzando. I ragazzi delle scuole superiori che saranno presenti qui stamani mattina e che saranno presenti potenzialmente anche in tutte le scuole della provincia, grazie a una diretta su Facebook di Arezzo TV, chi volesse quindi potrebbe direttamente partecipare anche da remoto, avranno, non so se il piacere, certamente l'opportunità di ascoltare stamani quello che è successo, la storia recente d'Italia, dalla seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale al 68, con un relatore professore d'eccezione che è il professor Camillo Brezzi. Ma oggi ci rivolgiamo agli studenti, alle studentesse per raccontare i primi vent'anni dell'Italia repubblicana, cioè dal 1946, da quando, dopo i terribili anni della guerra, si ricomincia a vivere, si comincia a ricostruire il paese, ricostruirlo materialmente, ricostruirlo sul piano politico istituzionale, ma anche ricostruirlo sul piano morale. Sono passati decenni che hanno stravolto il nostro paese, ma l'intera Europa. Ecco, analizzeremo alcuni aspetti e mi farò aiutare dai passi, dai brani degli archivi che ci sono a Pieve Santo Stefano, nell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, in maniera da far conoscere anche le testimonianze della gente comune.